ecco qua il chihuahua pelo lungo cheese, cheese si un attimo che sto lavorando qui con il chihuahua come se oggi si è organizzato lo mette per terra? intanto rimane dentro a bozzo perché ha freddo ha eccolo qua, quanto pesa? un chilo? un chilo e mezzo un chilo e mezzo un chilo e mezzo è tutto occhi la faccia bello 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 lungo questo può essere un'idea perchè va bene proprio per le femmine cosa si chiama? ciak 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 si gira il cognome ciak si gira il cognome ciak si gira il cognome ciak eccola qua fatti vedere maschio fermo fa freddo fa freddo vieni qui mettete dentro tiè dai 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 non ti faccio niente per collare vieni non è la tua non è la tua vuole già la terra si si perchè passa a vedere la borsa si perchè passa a vedere la borsa